Com'è andata Raffi? Abbastanza bene, dai! Sei contento della prestazione? Ti poteva fare meglio? Ci poteva fare sicuramente meglio, c'è chi ha fatto meglio quindi sicuramente sì Sono contento più che altro della mia semifinale perché in molti sono stati... lì vicino è stata molta combattuta e in finale invece molti erano stanchi dalla semifinale ho saputo gestire nonostante due errori un po' grossi però è andata dai! Tra una settimana un'altra prova e obiettivo? L'obiettivo è sempre tornare in finale, quella è la cosa principale poi in finale ci si sa, si può sempre giocare Grazie Raffi!